Si è svolto a Teramo il convegno dal titolo Ricostruzione e Infrastrutture, la sfida per lo sviluppo economico. Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicate alle prospettive di ripresa, rigenerazione e sviluppo del Paese, negli aspetti giuridici, economici e sociali, partendo dall'impatto delle attività della ricostruzione sul territorio abruzzese. Questo è un convegno che mette insieme ricostruzione e infrastrutture. Del resto dobbiamo considerare che non ci sono solo le risorse destinate alla ricostruzione, ma anche quelle alle infrastrutture, che insieme fanno sistema e che possono contribuire allo sviluppo economico del Paese. In più, in questo convegno abbiamo tante competenze che metteranno in luce, come tutte le criticità che si sono avute per quanto riguarda il modello di ricostruzione finora attuato. Criticità che possiamo compegnare, a mio avviso, in due profili. Uno, il fatto che esiste per ogni evento sismico un modello ad hoc e non esiste un modello unitario come quello della protezione civile. E l'altro, probabilmente, è quello della semplificazione delle procedure, che è troppo complessa e che ha causato inevitabili ritardi. Su entrambi questi aspetti, devo dire che è intervenuto il legislatore e poi il commissario Legnini, con efficacia, con diverse ordinanze, sia semplificando le procedure e in prospettiva abbiamo grandi opportunità, perché speriamo che venga approvato, c'è una legge delega sul codice della ricostruzione, speriamo che venga approvato perché introduce importanti novità, comunque un modello unitario, che tiene conto delle singolarità dei vari eventi, ma che però prevede delle procedure standardizzate e quindi non ci fa trovare impreparati ad ogni evento. Nell'incontro di oggi si parlerà di ricostruzione, quale sarà il suo punto? Il mio punto di vista sarà quello della Corte dei Conti, che è il punto di vista per il quale sono stato invitato e quindi sarà quello della responsabilità che vengono coinvolte quando si va a interagire con normative complesse e talora contrastanti. La responsabilità non è connessa con l'azione, cioè il funzionario, il dirigente preparato, non ha paura della responsabilità. Noi vediamo che le responsabilità spesso sorgono in capo a soggetti che non hanno competenze, utilizzano le competenze amministrative per fare altro.